Bella a tutti ragazzi qui è Giovede interessante e ben ritornati nel mio canale e oggi siamo qui con il secondo episodio della mappa Cube Survival Allora questa mappa ragazzi mi sta piacendo veramente tanto e sto registrando questo episodio subito dopo quello precedente Davvero il primo episodio è stato molto molto bello e non vedo l'ora di esplorare tutti quanti gli altri cubi Nello scorso episodio ragazzi abbiamo messo difficoltà difficile quindi già questo ragazzi capitemi che la prima volta che gioca difficoltà è difficile Quindi mi scuso se dovessi morire troppe volte nello scorso episodio siamo morti solo tra virgolette una volta però dopo ce la siamo cavati bene Adesso ragazzi vorrei mettere in questa in questa cassa le cose fondamentali non il carbone ma la perla diciamo le cose un po' più rare le voglio mettere qui dentro Abbiamo trovato altro ferro ragazzi nel cubo che siamo andati ad esplorare che adesso andiamo a scaldare Sono tornato indietro ragazzi perché mi servono assolutamente altre torce quindi ci mettiamo a fare con 13 pezzi di carbone e 28 torce Perfetto potremmo farne altre però il carbone voglio conservarmelo Per quanto riguarda il piccone ragazzi abbiamo perso il nostro piccone vediamo se abbiamo ferro a sufficienza per farci il piccone Ne abbiamo due però mi ricordavo di averne altro ferro tipo qua esatto esatto mi sembra di averlo lasciato qua Esatto perfetto 5 quindi 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 ci facciamo anche il nostro caro piccone di ferro che ci servirà ragazzi assolutamente se vogliamo scavare in modo rapido Visto che da quello che ho capito le isole vanno scavate a fondo per trovare le casse nascoste Lasciamo come sempre ragazzi il nostro ferro qui dentro e il nostro carbone che sono le cose un po' più rare per adesso e che ci servono assolutamente Per il mangiare ragazzi la costoletta di maiale la rimaniamo qui e la carne cruda rimaniamo qui ragazzi anche se non penso che comunque l'inventario si possa riempire così tanto Noi comunque vabbè andiamo adesso andiamo di nuovo nel cubo nel primo cubo che poi sarebbe il secondo però comunque il primo da esplorare E vediamo un po' ragazzi perché sentivo continuo a sentire anche nello scorso episodio quando ho lasciato l'isola quando ho lasciato il cubo sentivo comunque i versi diciamo dei mob Siamo scesi di qua ragazzi adesso dovrebbe essere la situazione dovrebbe essere sotto controllo perché lo libera vero è sotto controllo Ho già visto un creeper di là è altro che sotto controllo aspetta aspetta creeper muori bravo Oh due creeper oh eeeh cosa è sta roba oh non c'era nessuno prima un secondo fa non c'era nessuno esplodete esplodete mannaggia così fate danno anche all'arciere qua Muori basta ragazzi basta eh non c'era nessuno prima qua sono spanaggi tutti quanti allora bisogna mettere assolutamente delle torce Piazziamo delle torce ovunque ragazzi ovunque piazza tutto piazza tutto qua piazza tutto del ferro adesso la andiamo a prendere di quasi continuo ragazzi un'altra torcia qua Prima di esplorare l'isola con calma adesso raccolgo tutto quasi va ancora però non c'è niente Mettiamo anche qui perfetto perfetto direi che abbiamo riempito tutta quanta questa miniera di torce e adesso con il nostro piccone ragazzi andiamo a prendere il ferro e il carbone Qui c'è un ragno nascosto qua dietro è maledetto mannaggia cos'è qua dentro mi siete nascosti tutti quanti qua dentro cos'è questo Oh 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 via 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 cosa ha quello addosso un armato cosa hai la ragnatura addosso cos'hai tu esplodi creeper bravo 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 Cosa aveva addosso quello ragazzi diamanti si ottimo ragazzi ottimo ecco cosa proteggeva quelli lì e il creeper nascosto là dietro e bravi e bravi eccoci qui i primi diamanti Perfetto due diamanti ragazzi bene non mi aspettavo ragazzi di trovare sinceramente i diamanti ecco non c'è non me l'aspettavo proprio Massimo ferro oro proprio se ci va ad andare bene ma diamanti no allora esploriamo ragazzi bene questa isola andiamo a prendere tutto quanto il ferro Perfetto così ci facciamo l'armatura ragazzi che è fondamentale soprattutto a difficoltà difficile ricordo ragazzi sto giocando Oh ancora altri diamanti bene ragazzi cioè qua vanno allora va esplorato tutto quanto va esplorato qui tutto 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 ci metteremo una vita Però va esplorato tutto altro carbone ragazzi che è fondamentale prendiamo tutto e comunque io direi che con il ferro ragazzi la prima cosa da farci è assurdo Ma ancora l'ho visto proprio così all'ultimo assurdo ragazzi quattro diamanti già incredibile e ragazzi ho continuato a scavare un altro poco non ho trovato niente Quindi io direi di tornare in superficie anche perché dobbiamo avere materiale a sufficienza per farci qualche armatura Comunque quanto ferro abbiamo preso 14 pezzo di ferro ogni altri 5 mi sembra di là 3 5 adesso non ricordo comunque dovrebbero bastare La cassa ragazzi in quest'isola l'abbiamo trovata se un giorno dovessimo morire possiamo tranquillamente tornare qua ragazzi e continuare a scavare Oppure se magari ci mancano dei materiali sappiamo che questa ragazzi è zona buona Io direi di piazzare delle torce anche qui sopra così da essere sicuri ragazzi che non spawni nessuno e questa isola diciamo che è nostra tra virgolette Qua i maiali si continuano a riprodurre in una velocità incredibile quindi io le uccido perché mi servono le costolette mi dispiace i maiali ma dovete darmi da mangiare Allora prima di andare ad esplorare ragazzi l'altra isola l'altro cubo torniamo un attimo a casa perché voglio farmi innanzitutto la spada di diamante E voglio mettere a cucinare il ferro che abbiamo trovato così da farci diciamo un altro pezzo dell'armatura Devo lasciare ragazzi il cancelletto aperto se no i maiali escono e se ne vanno in giro per la mappa Allora innanzitutto spada di diamante non so ragazzi se sia la scelta giusta credo di sì credo di sì credo che la spada in questo caso sia la cosa migliore da fare A difficoltà difficile una bella spada di diamante ragazzi penso che ci possa aiutare Poi i due diamanti ragazzi qui li lasciamo nella cassa nella nostra cassa dei materiali preziosi diciamo E andiamo a scaldare col carbone che abbiamo trovato anche comunque qua ne abbiamo altro carbone altro ferro Facciamo metà e metà quindi di metà di qua e metà di là così da velocizzare il tutto Perfetto mentre aspettiamo ragazzi che si cucina il tutto andiamo a vedere un po' come è la situazione qua Dobbiamo davvero non so quanti cubi ci siano c'è questo qui del portale il primo l'abbiamo già esplorato Poi ce n'è un altro lì quindi uno due tre e quattro quindi sono quattro in totale Almeno quelli che vedo da qua sono quattro quindi quattro cubi da esplorare e pezzi di ossigena da trovare Altri cinque pezzi ragazzi cinque qua e quattro di qua vediamo se riusciamo a fare il pantalone con questi pezzi Esatto sì riusciamo a farlo e quindi altro pantalone Altro poi il primo primo pantalone vediamo se riusciamo a farci con ragazzi qualcosa Tipo gli stivaletti dovremmo riuscire a farci sì gli stivaletti ce la facciamo a farli E forse riusciamo a fare anche la testa con tre Ce la facciamo no no non ce ne vogliono tre ce ne vogliono di più eh sì altri cinque ce ne vogliono Vabbè fa niente ragazzi andremo ragazzi speriamo ah eccoli qua ne ho altri qui dentro Perfetto cinque giusto giusto me li sono chiamati ragazzi me li sono chiamati Perfetto quindi abbiamo tutta quanta l'armatura completa a questo punto Ragazzi non abbiamo più scuse non possiamo assolutamente più morire Perché siamo messi molto molto bene a livello di spade a livello di tutto Quindi siamo messi molto molto bene lasciamo la spada di ferro qua Non si sa mai ragazzi che dovessimo morire almeno avremo già una spada di ferro con cui partire E andiamo ragazzi a questo punto ad esplorare l'altro cubo Adesso mi sembra che le strade si intrecciano sta facendo anche notte intanto Comunque qua sta scritto non è consigliato esplorare un cubo di notte Io che cosa faccio ci vado di notte naturalmente Devo chiudere i cancelli qua ragazzi sennò qua i maiali vanno in giro e anche le mucche Allora no che è successo si è buggato tutto Oh mamma mia pensavo che si era buggato tutto Fatto mettere una paura Tutto bianco ho detto che cavolo è successo Con calma allora di qua si va da tre parti addirittura Questa strada è veramente pericolosa Almeno da quello che ho capito Intanto qua è notte ragazzi accidenti io ci vado di notte Che cosa faccio ragazzi voi lo so io so che volete che io ci vado di notte Però dopo moriamo Andiamo nella sabbia ragazzi mi ispira di più la sabbia Dai mi ispira la sabbia non si sa mai La sabbia mi sembrerebbe un posto tranquillo Almeno sembra Siamo attenti ragazzi che qua la strada è anche rotta Ci manca solo che cadiamo giù perdiamo tutto Guardate qua ma perché mettono questi uoflano apposta Mettiamo un pezzo di ghiaia Deserto livello medio quindi un altro livello medio Allora innanzitutto Oh piccolino aspetta 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 Oh si sei fermato Ah no ecco ci ha ripensato Ci stava pensato Che cavolo sto facendo Vieni qua Mi dai un pezzo Mi dai qualcosa Mi dai niente Non mi dai Allora Oh stanno uscendo tutti Qua è da qua Oh 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 Cos'è sta cosa Oh cos'è sta cosa Che cavolo c'è qua dentro C'è uno spawn Esplodi Mamma mia ha fatto crollare tutto Ha fatto crollare tutto Allora calma Qui secondo me la cassa è qua Secondo me eh Poi non lo so Allora innanzitutto mettiamo delle torce ragazzi Qua che è troppo 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 buio Ecco qua Mettiamo tutto qui Perfetto E la cassa secondo me è lì Una scavata qua ragazzi Ce la darei Allora vediamo un po' Si può scendere Eh certo che si può scendere Oddio Allora Oh 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 Core like some of labyrinth Oddio Oddio Aspettate esplodi Esplodi creeper Esplodi così Poi danno a tutti Non così Aspetta che fa stargo su E poi esplodi Mamma mia C'è quello che mi sta cercando di colpire Ma non mi riesce a prenderlo Mettiamo delle torce qua tanto per Ok Ho messo troppe forse Vai esplodi 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 Bravo Bravo Ragazzi io qua C'è un labirinto qua Io il creeper ha distrutto tutto Vabbè scendiamo un attimo velocissimamente Ragazzi vediamo un po' Allora com'è la situazione qua C'è È pericoloso È ancora pericoloso Uh ho visto la cassa Ho visto la cassa Perfetto Mettiamo le torce ragazzi ovunque Prima cosa Che ci fate qua voi Che ci fate voi qua Con calma ragazzi Fatevi uccidere con calma Quante casse ci sono qua dentro Allora innanzitutto ragazzi Prima di concentrarmi sulle casse Voglio Rendere la zona sicura Quindi Uccidiamo questi bei creeper Qua esplodi esplodi No se no mi esplodi Mi rompi pure la cassa Ok perfetto Perfetto Uno scheletro con l'arco Intanto Me lo dai l'arco Me lo dai per favore Non esplodere Bravo Prendiamo tutto Perfetto Ci sono tantissime casse qua Qui Ecco qua Qua No un creeper Mannaggia la miseria È liberato pure l'omino qua Uh il ferro mi ha dato Perfetto Allora Qua i creeper ci hanno pensato l'oro ragazzi A distruggere tutto Allora Una cassa è questa Quindi Facciamola Rendiamola bene Bene visibile E Vediamo un po' che cosa c'è dentro Pronti Diamante Grande Carbone Carbone Noi lo prendiamo assolutamente E il ferro Perfetto E la prima cassa è andata bene Col diamante Adesso la seconda cassa Ne ho viste tantissime ragazzi Quindi per forza ci devono essere Almeno 4 ne ho viste Vediamo qua dietro se c'è qualcosa Eccolo qua Un'altra cassa qua dietro Perfetto Mettiamo subito la torcia qui Vediamo un po' Carbone 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 Ferro 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 Perfetto Adesso Liberiamo questa cassa Così se ci facciamo spazio Capisco che ci siamo già passati E 4 diamanti Bene Benissimo ragazzi Benissimo Benissimo Un'altra cassa qui Vediamo un po' che cosa Che cosa contiene qui Esatto I diamanti No solo ferro e carbone Un'altra cassa ragazzi Non so quante ce ne siano Però boh Finché non le continuo a trovare Quella lì l'abbiamo fatta Vediamo questa qui Facciamo sempre ragazzi I blocchi intorno Così da far capire Che ci siamo già stati Carbone 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 Ferro E diamante Perfetto Adesso Dire ragazzi Che le casse Siano finite A questo punto Mettiamo delle torce Qui ragazzi È notte È anche notte Praticamente Sto giocando a difficoltà difficile Mi era consigliato Di non andarci di notte Un'altra cassa Ok Qui bisogna stare attenti Perché le casse sono Ovunque qui Ferro 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 Carbone Ferro Ferro Perfetto Allora Qui dovrebbe finire la mappa C'è la mappa Il cubo E In teoria Le casse dovrebbero essere finite Io sopra ragazzi Andando qua Aspettate un attimo Facciamo un altro Giro qua veloce Questa qua l'abbiamo fatta Sì Direi di aver fatto tutto Ragazzi Direi di aver fatto tutto Torniamo su A questo punto O qua c'è qualcosa Nascosto qua dietro Ragazzi Vediamo un po' No no Non c'è niente Questa cassa l'ho fatta Vero si Ho fatto tutto Adesso torniamo su Ma dove si torna su Che non mi ricordo Che non mi ricordo dove si torna Dove sono sceso qua E io non vedo niente ragazzi Non vedo niente Vabbè comunque Se non ce la facciamo A questo punto Facciamoci una piccola scaletta Usciamo No di qua Si esce Quindi vabbè Facciamo Così la sabbia che ci cade addosso Stiamo attenti ragazzi Stiamo attenti A questo punto Non trovo più l'uscita E Facciamoci così E così usciamo da Usciamo qui facilmente Con i pezzi di ghiaia inutili Perfetto Siamo fuori Adesso ragazzi Questa Intanto qui hanno distrutto tutto Però Questa specie di No sono cauduto Ecco qua dove Dove era il punto Di cui sono Sceso Comunque Questa cosa Questa struttura Mi interessa molto Non abbiamo ancora trovato I pezzi di ossidiana Quindi secondo me Sono qui in fondo Esatto Pezzi di ossidiana Mele E poi Un lipic Andato con protezione 3 La corazza Ce l'ho fatta La spada Non posso prenderla Perché ho rimasto Tutto pieno Ok allora calma Rimaniamo la terra Qua dentro La sabbia che non ci interessa Sabbia Arenaria Rimaniamo tutto qua dentro I semi di anguria I semi Ok Non so a che cosa Ci possono servire Per il momento Noi prendiamo le robe Importanti ragazzi E abbandoniamo Anche questo cubo Con un bel bottino Con un bel bottino Ragazzi Con ben 4 Di ossidiana In totale naturalmente 4 di ossidiana Adesso devo fare Ecco ecco cosa devo fare Allora innanzitutto Tutti questi blocchi ragazzi Che mi fanno paura Devo coprirli Assolutamente Perché secondo me Un giorno di questi Io non li vedo E vado proprio giù pesante Quindi Copriamo tutto Perfetto Perfetto Un altro blocco qui Un altro blocco qui E questa qui dovrebbe essere La seconda isola Che non è ancora casa nostra Diciamo la nostra base Ragazzi E' quella lì Mettiamo anche le torce Ragazzi Qui le torce sul ponte Volevo mettere Però non mi sono dimenticato Perfetto Mettendo le torce qua ragazzi Facciamo capire Che comunque qui ci siamo stati Perché ho visto Che ci sono Che si intrecciano Parecchie strade lì Comunque Andiamo a depositare ragazzi I diamanti A questo punto Qua dentro E quasi quasi Mi verrebbe voglia ragazzi Di farmi una bella armatura Di diamante Quasi quasi Però ragazzi Per il momento Mi accontento Diciamo tra virgolette Di questo Scaldiamo qualcosa Abbiamo trovato qualcosa da scaldare No Poi ora abbiamo 15 di ferro Però che cosa ci possiamo fare col ferro Niente a questo punto No No Mi sa di no Allora mettiamoci Tutto qui dentro I semi Le cose che non ci possono essere Liberiamoci un po' Il libro incantato Con la protezione Questo potrebbe essere Molto interessante ragazzi Da fare magari su un'armatura Vedremo Vedremo Per quanto riguarda il cibo Ecco il cibo Volevo cucinare un po' Qui Perfetto Mettiamo le costolette Qui E mettiamo l'ossidiana Qui Abbiamo 4 pezzi Di ossidiana Poi la cordicella La mettiamo qui Le ossa Il cartello Al momento non ci interessa Ragazzi queste cose Non ci interessano Il ferro possiamo anche Rimanerlo qui Un piccone però Devo farmi un piccone di ferro Questo si Però il legno L'ho messo qui anche il legno Forse mi sono sbagliato No abbiamo finito il legno Quindi con l'ascia Che non abbiamo Non abbiamo neanche un'ascia No Me ne ero fatta un'ascia Allora a questo punto ragazzi Facciamoci anche un'ascia Ma non possiamo fare Perché abbiamo finito Anche i bastoncini E quindi Dobbiamo rompere così A mano Giusto ragazzi Ecco duro come il legno Giusto per farci Un paio di blocchi Così da farci L'ascia Non dico l'ascia Di ferro No speriamo il ferro così Ma ci facciamo Un'ascia così Di Anzi no Non di legno ragazzi No ho sbagliato Ce la facciamo di pietra Così siamo anche più veloci Ragazzi a scavare Il legno Devo farmi ragazzi Assolutamente altre torce Quindi Andiamo qui nel nostro tavolo Da lavoro E oltre al piccone Che dovevamo farci Ci facciamo anche delle torce Quindi mettiamo Tutte quante le cose qua Ci facciamo Tutti quanti 14 bastoni Che possono bastare Ci facciamo Un bel piccone di ferro Sbagliato Eccolo qua Un bel piccone di ferro E poi dobbiamo fare le torce Per fare le torce Prendiamo questi 8 di carbone Ah qua ce n'è uno solo Vabbè prendiamolo Anche le costolette Qui ci facciamo Il Torce 37 torce Penso che possino bastare E io ragazzi Direi di dormire No non si può dormire Perché è giorno Però sta piovendo Che tristezza ragazzi Quando piove Comunque depositiamo ragazzi Il ferro qui Siamo messi veramente Molto molto bene Ragazzi abbiamo già 4 pesti di ossidiana Esatto E nel prossimo episodio Ragazzi andremo ad esplorare Il prossimo cubo Quindi sotto la pioggia Ragazzi direi che per questo E' tutto Io spero che il video Vi sia piaciuto E' stato così Vi da lasciare un bel like Ragazzi per supportare Al massimo Questa serie Su minecraft Noi ci vediamo Con un prossimo video Bella Ciao